facciamo l'inquadratura a voi vi vedo io mi dovrei mettere lì la lucetta, sai che così dovremmo esserci ancora qualche secondo e porca vacca un'altra volta che sono tre? ma non ho capito, 19 secondi qui non ne passano nemmeno due vabbè dai, la prossima la faccio io vado a vedere chi è buongiorno disturbo? no, no, vieni, accomodati che novità? salve ciao beh, forse stavo disturbando a quanto pare stavate aggiornando l'album di famiglia beh, tanto tu non ti trattieni molto, no? infatti sono venuta per quel convegno sull'Ais che inizia venerdì, ti ricordi? sì, certo il radio vogliono fare uno speciale io ti ho portato un po' di rassegna stampa e chi partecipa? e lì c'è scritto tutto quanto ci sono i programmi, le interviste e anche una cartina di Bologna Bologna? e come ci vogliamo organizzare? ci danno uno studio lì oppure avremo una postazione mobile bisogna cominciare a fissare gli appuntamenti? no, frena, frena tanto per cominciare una trasmissione non si svolgerà tutta quanta a Bologna ma una parte si farà qui che senso qui? e penso che soltanto uno di noi parte e l'altro invece condurrà da Napoli e immagino che tu non abbia niente incontrare o se sarò io ad andare non fosse altro per l'esperienza esperienza? e da quando è che ti sei occupando dall'argomento? no, perché proprio non me lo ricordo qualunque cosa abbia fatto l'ho fatta prima di te e qualcuno direbbe anche un pochino meglio è da vedere mi parte stasera non so se potrei lasciare con me per la settimana di noi